questa scultura in sé è nata esattamente un anno fa per cortina pensai questa frase dove le varie persone con un ruolo all'interno delle comunità a scrivere quel con la loro grafia proprio questa frase dai su fammi un sorriso in tempi molto recenti cioè una ventina di giorni fa ho sentito leonardo gli ho detto leonardo facciamo una cosa che coinvolga milano e prato a prato c'è esattamente l'opera che era cortina che andrà su uno dei torrioni del palazzo dell'imperatore che appunto sono cinque scritte cioè cinque volte ripetuto dai su fammi un sorriso con cinque grafie diverse cioè la cosa che mi interessava è che l'elemento privato della grafia diventi appunto un elemento che invece non è più soltanto privato ma diventa pubblico siamo invitati a ritornare a sorridere tra di noi e rioccupare le piazze in qualche modo le strade che è una dei nostri dei modi per vivere la nostra vita da mediterranei mi sembra interessante il fatto che due poli due città italiane in questo momento hanno lo stesso messaggio all'interno no e questa cosa mi sembrava molto interessante proprio il fatto che c'è un filo che corre da qualche parte che e che lega che ci lega tutti in qualche modo ecco all'interno 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 all'interno